Cavo teso ma il clima Mi sono chiusi e bloccati Ma il clima da Delta 6435 Cavo teso e pronti a partire Cavo teso e pronti a partire Cavo teso ma il clima 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 Grazie a tutti. 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 Bianca ci ampara proprio sotto di noi. Grazie a tutti. 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 Rifugio Bristotta 1.650. Grazie a tutti. 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 È unивissimo . È l'1A Delta! 525. 찍erì! ...si porta in prenotazione. 2 Trekker sotto bloccato. ma non è che l'allianza del 9708 è prossima la prima sezione 950 metri 26435 750 numero 1 l'allianza del 970 metri Sottovento a 2.3 ettero, allianta delta 6435 Mesono, entro la provostazione, allianta delta 9, 7 e 8 Base delta 6435 Finale a 2.3 ettero, allianta delta 6435 Finale a 1.6 mm 하ничtavola vista libera dagli ante delta 6435 grazie a tutti